Assessore Cuzzi, buone notizie per i commercianti pescaresi del centro perché ci saranno nuovi spazi proprio per le attività pubbliche della zona centrale di Pescara. Sì, nuove possibilità di occupazione di suolo pubblico a servizio del comparto commerciale. Abbiamo dato atto a quel programma Pescara per il commercio da qui fino a dicembre. Questa è una delle prime iniziative che abbiamo assunto, modificando la delibera 8,40 che escludeva nelle aree centrali la possibilità di prevedere Deor in via Regina Margherita e in via Regina Elena. Noi l'abbiamo modificata e questo sarà un sostegno ulteriore a tutte quelle attività, mi riferisco come ad esempio le attività di ristorazione, che animano sia via Regina Margherita che via Regina Elena. Ci sono buone notizie anche per quanto riguarda la marineria pescaresi, grazie ad un bando dell'Unione Europea per quanto riguarda la pesca. Sì, stiamo lavorando molto per la costituzione del flag Costa di Pescara, è un fondo europeo, un bando regionale. Noi parteciperemo con la strategia che si dovrà presentare entro il 9 settembre. Stiamo facendo un lavoro di partecipazione, ascoltando tutte quelle che sono le istanze della marineria e degli operatori del settore e delle associazioni di categoria. Abbiamo costituito il protocollo d'intesa. Noi saremo come Comune di Pescara il partner pubblico. Abbiamo fatto un avviso per quanto riguarda la ricerca di partner privati. E' una buona opportunità perché si tratta di un milione di euro da destinare al comparto, attuando una strategia importante che partirà dalla valorizzazione delle tradizioni, da nuove possibilità, ad esempio sulla filiera corte, tutta una serie di azioni che andremo a fare qualora ci venisse riconosciuto questo finanziamento così importante per la nostra città.